Un bambino di 4 anni è stato sottoposto ad accertamenti all'ospedale San Paolo di Milano per verificare se si è affetto da epatite anomala. Questo è il primo caso sospetto registrato a Milano. Il piccolo presentava un colorito giallognolo e valori del fegato molto alterati. È arrivato in ospedale nei giorni scorsi ed i sanitari hanno immediatamente provveduto a procedere con gli accertamenti. 5 gli step di analisi che potranno dare le risposte all'equip medica che lo ha in cura. Potrebbe trattarsi di un altro possibile caso di epatite acuta scatenata da causa sconosciuta. Altri due piccoli pazienti per cui la malattia è confermata di 6 e 11 anni sono ancora ricoverati in cura all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il secondo ha dovuto subire un trapianto di fegato.